Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un prodotto per la verniciatura del ferro, il ferro Mikachia. Questa è una cartella colore in cui sono presenti dei tasselli che danno benissimo l'idea di quello che è questo materiale. Praticamente è un effetto antichizzato metallizzato. Questo effetto è ottenuto tramite una polvere di ferro inserita dentro le resine ed è molto utilizzato nei centri storici o su manufatti antichi. È molto consigliato all'esterno, ha un'ottima resistenza e ne esistono di due versioni, ovvero la versione a solvente, quindi diluita con acqua raggia o diluente sintetico, o la versione all'acqua. I smalti Mikachia e l'acqua sono un po' più difficili da trovare, costano un po' di più, ma tornano molto utili per esempio su varniciatura all'interno perché hanno un odore molto meno ungente rispetto a quegli assolventi. Quegli assolventi invece trovano la loro destinazione principale, la varniciatura di manufatti in ferro all'esterno per la loro grande durata, il loro effetto al tiruggine. Alcuni, non tutti sono garantiti come al tiruggine ma la maggior parte lo sono. Prendono il ferro credevole al tatto e molto bello alla vista, si adattano benissimo a un ambiente classico.